Buona mattinata a tutti ragazzi, oggi video speciale per gli appassionati di videogiochi 24 maggio 2002, 24 maggio 2022, 20 anni dall'uscita europea di Final Fantasy X, ve lo ricordate? Il numero più famoso dell'intera saga, oggi ce l'abbiamo in Europa da 20 anni pubblicato inizialmente per PlayStation 2 e poi in seguito per tante altre piattaforme ne ho messo sul desktop una foto, purtroppo dicevo ho messo là sul desktop una foto di questo gioco e ne ho anche sul cellulare, ma non ve le faccio vedere per sicurezza non ve le faccio vedere Buon ventesimo anniversario all'esistenza in Europa di Tidus, Len, Lulu, Waka chi più ne ha più ne metta Cari appassionati di videogiochi sono 20 anni che avete questo gioco nel vecchio continente e buona giocata a tutti